Io gli voglio bene, sono complementare a lui, come dico sempre, lavoro bene a lui, ma sfido chiunque a trovare una mia dichiarazione in cui dico, do un sostegno, un appoggio a Pier Francesco. Forse lui confonde una indubitabile amicizia, solidarietà, condivisione di lavoro insieme con qualcosa di diverso. Due settimane fa Francesca Barzani diceva che non si riconosce dei miei programmi. Due mesi fa mi incitava a candidarmi, poi si è candidata. Io sinceramente con Francesca le voglio bene, ma non so proprio più cosa dire, cambia idea ogni 10 giorni. A questo punto facciamo un bel dibattito pubblico, un bel confronto pubblico, non parliamoci in una stanzetta, parliamo di fronte ai milanesi, sfidiamoci anche un po' per il futuro della città. Poi è ovvio che io sono sempre, la porta del dialogo è sempre aperta, come si dice, però non è che, cioè quelli che mi chiedono di ritirarmi per sostenere la Barzani, che dice che non si riconosce nelle mie proposte politiche, evidentemente fanno una cosa che è un po' forzata.